2 ragazzoni che sono ben cresciuti, ex cremonese e c'è anche Zava in campo pronto a entrare a cercare di dar manforte alla Virtus per cercare di portare almeno in pareggio il risultato allora vinca il migliore e speriamo la Virtus, ciao Brigno! 4.25 del 8 settembre 2019, compleanno di Maria, siamo pronti per il secondo tempo dell'incontro di calcio tra Ostiano e Virtus Manerbio ottimo fallo, l'arbitro dice di no, si esagera un po', buona la palla, eh no, non si fa così, c'è poco da fare dopo che hai superato un ostacolo, va bene che tu ti liberi dal pallone, c'è la palla buona però per la Virtus vediamo ancora, non tirare in porta Santinumi, i tifosi incitano i loro beniamini, Salah che sbaglia il contratto col pallone poi Prio prende il pallone, Salah, Salah ce l'ha ai piedi, lo dà malamente, anzi lo prende malamente Prio e lo guadagna l'Ostiano che attacca adesso con la fascia, sulla fascia sinistra, attenzione, ha sbagliato l'intervento entra in area il ragazzo, attenzione che tira adesso e sfiora il palo, per Salah, vediamo se torna il pallone Salah lo distribuisce sulla sinistra, attenzione adesso, e poi ogni volta i cross evidentemente non sono nelle corde dei Virtus attenzione, attenzione perché l'Ostiano, bravissimo John, ma Bella non controlla il pallone, lo regala ancora l'Ostiano attenzione al numero 7, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco attenzione, bisogna stare molto attenti perché adesso tirerà, e invece no, attenzione che porta dove vuole il pallone lo mette in mezzo, e per fortuna i suoi compagni non sanno mettere a frutto un passaggio bellissimo intorno al 7 minuto, viene cambiato Massimiliano, punizione, palla in mezzo, Salah ma è ancora il numero 8 che tira in porta, è la palla, viene deviata in corner palla ancora in attacco per l'Ostiano, numero 18, attenzione al 10, attenzione si libera benissimo e lascia andare un fendente che per fortuna della Virtus non c'entra la porta ultimo minuto, cambio ancora per la Virtus, c'entra il grande Zava, conquista il pallone insieme al Savalai palla buona, Zava, 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 ottima la palla, no, 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 misericordia, no l'arbitro è pronto a fischiare, la barriera è vicinissima, troppo vicina e c'è un tiro in porta, che in porta non è il numero 9, riporta il pallone in avanti, ottimo dialogo, sulla sinistra, attenzione palla pronta per il tiro in porta, bellissimo, bellissimo questo gol e con un tocco aggraziato di un pittore mette la palla in fondo al sacco per il 3 a 0 della Virtus e cioè, scusate, per il 3 a 0 dell'Ostiano, tripletta del numero 10 Magnini, detto Magni il 23esimo del secondo tempo, 3 a 0 per... che cos'è questa roba? Virtus Federico Appiani, Federico Appiani, tiene una palla, difficile ruba attenzione, questa poi ragazzi e signori miei ed è un gol, come al solito, organizzato dal grande regista Federico Appiani e poi dal realizzatore Salah, che mette a segno il 3 a 1 Salah, che attacca e cerca un fallo, bravissimo Salah, che prende un pallone d'oro vediamo se adesso riesce, bravissimo, buona la palla, bisogna dare la prima Salah è buono, Salah è buono, tira in porta il portiere delle fredde straordinarie e forse è corner, invece no, ha ragione l'arbitro, fallo di fondo la palla è per la Virtus ed è salvalai che la porta, ci sembra il tanga no, la palla è buona per il Salah, Salah, vediamo cosa fa, fa anche rima attenzione, tira in porta e gol! trova il jolly, ma è una deviazione decisiva che porta il risultato sul 3 a 2 e allora si elettrizza la partita mancano, sono 35 minuti del secondo tempo, 3 a 2 stiamo ancora sulla destra boni, boni passaggio indietro ma al destro ma il ragazzo è un razzo, con le gambe fa quello che vuole motorino e buon aria, esatto, motorino e buon aria si suggeriscono i tifosi, il difensore della Virtus che porta via il pallone Zava, Zava che si guarda intorno e offre la palla sulla sinistra Salah, Salah, Salah può andare, Salah può andare non tirare in porta, Salah! con la palla, vediamo cosa fa il 18 infatti la tiene, la passa molto bene sul scala, scala, scala! palla buona per il, attenzione tutto buono, grande parata del portiere pallone ma palla in mezzo vediamo chi la, sempre i soliti sempre i soliti blu che prendono il pallone tiro in porta ma non è possibile e allora il 10 se ne va da una palla d'oro e allora si potrebbe finire il ci mancherebbe solo che l'Ostiano pareggiasse dopo questo svarione e allora il numero 18 se lo sognerebbe anche tutta la notte e allora l'arbitro fischia la fine della partita 3 a 2 per l'Ostiano grazie a tutti